La preghiera è un potente strumento per comunicare con il Divino e per chiedere grazie, consolazione e intercessione. Uno dei Santi più amati e venerati per il suo dono d'intercessione è Padre Pio da Pietrelcina, un frate cappuccino italiano del XX secolo. Padre Pio è conosciuto per i suoi doni mistici, i suoi stigmi e la sua vita di preghiera intensa. In questa occasione, vorrei condividere una preghiera ispirata a Padre Pio, che potresti utilizzare per chiedere una grazia. O Padre Pio, amato Santo e confidente del Cielo, mi avvicino a te con umiltà e fiducia, consapevole della tua profonda unione con Dio e del tuo potere d'intercessione. Ti prego, guida e ispira le mie parole mentre mi rivolgo al Signore, implorando la sua grazia e la sua misericordia. Padre Pio, tu hai sperimentato personalmente le sfide e le sofferenze della vita terrena, ma hai mantenuto una fede salda e un amore immenso per Dio. Tu conosci le mie debolezze, le mie preoccupazioni e le mie speranze. Ti prego, sostienimi nel mio cammino di fede, rafforza la mia determinazione e donami la grazia di perseverare nella virtù. O Santo Padre, tu hai avuto un legame profondo con il Signore Gesù Cristo. Conosci il suo cuore misericordioso e la sua compassione infinita per i peccatori. Ti prego, intercedi per me affinché io possa ottenere il perdono dei miei peccati, la purificazione del mio cuore e la grazia di vivere secondo la volontà di Dio. Aiutami a riconoscere i miei errori, a pentirmi sinceramente e a ricominciare col rinnovato fervore nella via della santità. Santo Padre Pio, tu hai dedicato la tua vita alla preghiera incessante e all'adorazione eucaristica. Hai trascorso ore intere in comunione con Dio, nutrendoti del suo amore e della sua saggezza. Ti prego, insegnami a pregare con sincerità, a trovare nella preghiera la forza e la consolazione di cui ho bisogno. Aiutami a vivere la presenza di Dio nella mia vita quotidiana, a riconoscerlo nelle piccole cose e a cercarlo con tutto il mio cuore. O Santo Taumaturgo, tu hai donato guarigioni fisiche e spirituali a coloro che si sono rivolti a te con fede. Ti prego, intercedi per me e per le mie intenzioni, nomina qui la grazia che desideri chiedere, se è conforme alla volontà di Dio e al bene della mia anima. Ti affido questa supplica ardente e ti chiedo di portarla al cospetto di Dio, sicuro che tu pregherai con me e per me. Padre Pio, tu hai dedicato la tua vita a servire gli altri, a portare la luce di Cristo ai cuori afflitti e bisognosi. Ti prego, insegnami a seguire il tuo esempio di amore fraterno e di generosità. Aiutami a riconoscere le opportunità di servire gli altri, di alleviare il loro dolore e di portare loro speranza e conforto. Dammi la grazia di essere un testimone vivo del Vangelo, di amare senza riserve e di donarmi completamente agli altri come Cristo ha fatto per noi. O amato Padre Pio, so che sei un fedele custode dei nostri cuori e delle nostre preoccupazioni. Ti prego di intercedere presso il Padre Celeste per la mia causa. Con umiltà e con fiducia, ti presento la mia richiesta di grazia, sapendo che tu la porterai al cospetto di Dio e che farai tutto il possibile per ottenere la sua misericordia e il suo aiuto. Concluso questa preghiera, ti ringrazio, Padre Pio, per la tua presenza costante nella vita dei fedeli e per la tua intercessione potente. Ti chiedo di continuare a vegliare su di me, sulla mia famiglia e su tutti coloro che si affidano a te. Aiutami a vivere in comunione con Dio, a seguire la sua volontà e a crescere nella fede ogni giorno. Ora e sempre, ti venero e ti imploro, o Santo Padre Pio. Amen. Questa preghiera è solo un esempio di come potresti rivolgerti a Padre Pio per chiedere una grazia. Tuttavia, ricorda che il vero potere della preghiera risiede nella tua fede, umiltà e fiducia in Dio. Che la tua preghiera sia sincera e rivolta al Signore, e che tu sia aperto alla sua volontà, sapendo che egli risponde sempre secondo il suo amore e la sua saggezza.